Grazie Russo, siamo all'ottavo minuto, ancora 0 a 0 tra Parma e Chiero, al quinto minuto l'ampo di Antonio Cassano, lancio in profondità, la circa 25 metri per Amaroli, anticipato di un zocchio dalla portiera Pugione, applausi comunque per l'attaccante barese, il Parma adesso sembra decisamente più spigliato, sta cercando di prendere il mare, un pallino con il gioco, adesso ci prova con Valdessa, infrasso per Pia Pia Mì, attenzione a Amaroli, tutta conclusione al volo di Terzo, ripattuta dalla difesa del Chiero, ma non è finita, ancora Valdessa, attenzione Valdessa cerca la collaborazione proprio di Cassano, questa volta è chiusa nella morsa del buon difensore del Chiero, Chiero che può ripartire, siamo alla 9 minuti, parma 0, che non sia lo studio.